Benvenuti, io sono Enrico. Abbiamo già parlato spesso dell'opera di giudizio di Dio degli ultimi giorni. Oggi vorremmo approfondire su chi svolge quest'opera di giudizio. Tutti i credenti sanno che Dio compirà il Suo giudizio negli ultimi giorni, che Egli apparirà all'umanità ed esprimerà personalmente le Sue parole. Ma in che modo Dio svolge questo giudizio? È il Suo Spirito che appare in cielo e ci parla? Questo non è possibile. Lo stesso Signore Gesù ci ha detto, Il Padre non giudica nessuno, ma ha affidato tutto il giudizio al Figlio. Egli ha dato autorità di giudicare, perché Egli è il Figlio dell'uomo. Da questo vediamo che l'opera di giudizio è svolta dal Figlio. Ogni volta che si menziona il Figlio dell'uomo, dovremmo sapere che si tratta di Dio incarnato. Quindi, Egli viene nella carne per svolgere l'opera di giudizio. Questo è molto importante. Sapete cos'è l'opera di giudizio degli ultimi giorni? Perché Dio dovrebbe farsi carne per poterla compiere? In sintesi, è il Salvatore che viene a salvare l'umanità. Quando Dio si fa carne sulla terra, è il Salvatore che discende. Egli compie l'opera di giudizio per salvare l'umanità dal peccato per sempre. Accettando il Suo giudizio, potete essere liberati dal peccato ed essere salvati. Sarete protetti dai disastri e accederete al Regno dei Cieli. Quindi, accogliere l'opera di giudizio del Salvatore è legato alla destinazione di una persona. Concorderete che è essenziale. Molti credenti potrebbero chiedere perché Dio debba farsi carne per il Suo giudizio degli ultimi giorni. Pensano che il Signore Gesù verrà su una nuvola, allungherà una mano e ci condurrà tutti nel Regno. Non sarebbe meraviglioso? Questo pensiero è semplicistico e anche irrealistico. Dovreste sapere che l'indole di Dio è santa e giusta. Egli accoglierebbe dei peccatori nel Suo regno? Conosciamo il versetto della Bibbia. Senza la santificazione nessuno vedrà il Signore. Tutti peccano e lo fanno costantemente. Dio non ci porterebbe mai direttamente nel Regno. Non è così che ci salva. Dio odia i peccatori. Essi non sono degni di vedere Dio. Non c'è dubbio a riguardo. Allora, in che modo il Salvatore ci salva negli ultimi giorni? Prima, Egli compie il Suo giudizio per purificarci dalla corruzione, salvandoci dal peccato e dalle forze di Satana, e solo dopo ci condurrà nel Regno. Dio non vi salverà, né vi porterà nel Regno, se prima la vostra peccaminosità non sia risolta. I disastri sono già iniziati, e tutti sentono che il mondo sta finendo, che la morte si avvicina. Tutti stanno aspettando che il Salvatore venga a salvare l'umanità. Per questo, accogliere Lui e la Sua opera di giudizio degli ultimi giorni ha molta importanza. È cruciale per stabilire se i credenti saranno salvati ed entreranno nel Regno dei Cieli. Ma prima spieghiamo l'opera di giudizio degli ultimi giorni. Le persone religiose pensano ad essa come qualcosa di semplice e sono sicure che il giudizio verrà compiuto dal Signore Gesù in forma di spirito, che il Signore verrà a prenderci e ci porterà nel Regno, e allora i miscredenti saranno condannati e distrutti. In realtà, questo è del tutto errato. In cosa si sbagliano? Ogni volta che Dio compie un'opera per salvare l'umanità, è molto pratico e realistico, per nulla soprannaturale. Inoltre, trascurano le profezie bibliche circa l'arrivo del Signore, quelle su Dio che si fa carne come figlio dell'uomo per compiere l'opera di giudizio. Il Signore Gesù parlo chiaro. Infatti, come il lampo esce da Levante e si vede fino a Ponente, così sarà la venuta del figlio dell'uomo. Inoltre, il Padre non giudica nessuno, ma ha affidato tutto il giudizio al figlio. Chi mi respinge e non riceve le mie parole, ha chi lo giudica. La parola che ho annunciata è quella che lo giudicherà nell'ultimo giorno. Ho ancora molte cose da dirvi, ma non sono per ora la vostra portata. Quando però sarà venuto Lui, lo Spirito della verità, Egli vi guiderà in tutta la verità. Nella prima lettera di Pietro 4,17 dice, Non sono profezie molto chiare? Il Signore si incarna negli ultimi giorni come figlio dell'uomo e svolge l'opera di giudizio. Non c'è alcun dubbio su questo. L'opera di giudizio non è affatto come la gente immagina. Con Dio che porta i credenti direttamente in cielo, poi condanna e distrugge i miscredenti ed è finita lì. Non è così semplice. Il giudizio degli ultimi giorni ha inizio dalla casa di Dio e si svolge prima tra coloro che accettano il giudizio di Dio degli ultimi giorni. Ossia, il figlio dell'uomo incarnato avviene sulla terra, esprime molte verità per purificarci e salvarci e guida i prescelti di Dio ad accedere a tutte le verità. Questa è l'opera degli ultimi giorni e Dio l'ha pianificata molto tempo fa. Quanto ai miscredenti saranno direttamente condannati ed eliminati nei disastri. Ora, il Salvatore è già venuto come Dio Onnipotente incarnato, esprime le verità necessarie a salvare l'umanità e compie l'opera di giudizio a partire dalla casa di Dio. Le verità di Dio Onnipotente hanno scosso il mondo intero e molte persone ne hanno sentito parlare. Le profezie della Bibbia sul ritorno del Signore si sono completamente adempiute, ma molti ancora non comprendono l'opera di giudizio degli ultimi giorni e continuano a sperare nel soprannaturale. Dio che appare in cielo e da lì ci parla. È una cosa molto vaga. Leggiamo le parole di Dio Onnipotente per capire meglio come Egli svolge il Suo giudizio. In altre parole, Cristo degli ultimi giorni dovrà utilizzare la verità per insegnare agli uomini su tutta la terra e per far conoscere loro tutte le verità. Questa è l'opera di giudizio di Dio. Cristo degli ultimi giorni utilizza una serie di verità per insegnare all'uomo, rivelarne l'essenza e analizzarne le parole e le azioni. Queste parole comprendono diverse verità, quali il dovere dell'uomo, come l'uomo dovrebbe obbedire a Dio, come dovrebbe essergli fedele, come dovrebbe vivere la normale umanità, così come la saggezza e l'indole di Dio e così via. Queste parole sono tutte dirette all'essenza dell'uomo e alla sua indole corrotta. In particolare, le parole che rivelano come l'uomo rifiuta Dio vengono pronunciate a proposito di come l'uomo sia la personificazione di Satana e una forza nemica di Dio. Quando Dio comincia l'opera di giudizio, Egli non si limita semplicemente a chiarire la natura dell'uomo con poche parole, ma compie la rivelazione, il trattamento e la potatura a lungo termine. Tutti questi diversi metodi di smascheramento, trattamento e potatura non possono essere sostituiti da parole comuni, ma con la verità che l'uomo non possiede affatto. Solo tali metodi di lavoro vengono considerati giudizio. Solamente attraverso tale giudizio, l'uomo può essere assoggettato o pienamente convinto a sottomettersi a Dio e inoltre può ottenere la vera conoscenza di Dio. Ciò che l'opera di giudizio realizza è la comprensione da parte dell'uomo del vero volto di Dio e la verità riguardo alla Sua ribellione. L'opera di giudizio permette all'uomo di ottenere molta comprensione della volontà di Dio, dello scopo della Sua opera e dei misteri che per l'uomo sono incomprensibili. Inoltre, consente all'uomo di individuare e conoscere la Sua sostanza corrotta e le radici della Sua corruzione, come pure di scoprire la Sua bruttezza. Questi effetti si realizzano tutti tramite l'opera di giudizio, perché la Sua sostanza è di fatto l'opera di svelare la verità, la via e la vita di Dio a tutti coloro che hanno fede in Lui. Quest'opera è l'opera di giudizio svolta da Dio. Ora dovremmo capire come Dio compie il Suo giudizio degli ultimi giorni. Lo fa esprimendo verità e usandole per giudicare, purificare e salvare l'umanità. Ossia, Dio usa quest'opera di giudizio per purificare la nostra corruzione, per salvare e completare un gruppo di persone che hanno un solo cuore con Dio. Questo è il risultato del piano di gestione di 6.000 anni e il punto cruciale dell'opera di giudizio degli ultimi giorni. Ecco perché Dio Onnipotente esprime così tante verità, espone e giudica ogni indole corrotta dell'uomo, purifica le persone attraverso prove e trattamento, estirpando la peccaminosità, permettendoci di sfuggire al peccato e alle forze di Satana e di sottometterci a Dio e riverirlo. Questo può confondere un po' alcune persone. Il Signore Gesù ha redento l'umanità, quindi perché Dio dovrebbe giudicare l'umanità negli ultimi giorni? Dio salva l'uomo negli ultimi giorni risolvendo la nostra indole corrotta. Non è una cosa semplice. Non si tratta solo di confessarci e pentirci con il Signore e basta. Un'indole corrotta non è la peccaminosità. Non si tratta di comportamenti peccaminosi, ma di qualcosa che vive nella nostra anima. sono manifestazioni di un'indole radicata in noi, tra cui arroganza, astuzia e disprezzo per la verità. Si celano nel profondo del cuore delle persone e non si vedono. A volte il peccato non è evidente e una persona può essere cara, ma serva in cuore motivazioni spreggevoli e inganna e fuorvia agli altri. Questo è un problema della sua indole. Senza il giudizio e le rivelazioni di Dio nel lungo termine, insieme al trattamento e alle prove, le persone non lo vedrebbero né cambierebbero. Tra i credenti nel Signore, chi è sfuggito al peccato dopo una vita di confessione dei propri peccati? Proprio nessuno. E quindi, la redenzione del Signore senza il giudizio degli ultimi giorni permette solo di riconoscere i peccati che si fanno. Ma la propria natura peccaminosa, la radice del peccato, ossia l'indole corrotta radicata in noi, non è qualcosa che si vede e si corregge. Questo è davvero innegabile. Dunque, solo grazie a Dio che si incarna e compie il giudizio negli ultimi giorni, esprimendo libri di verità, e attraverso la Sua rivelazione e il Suo giudizio, le persone possono vedere la verità della loro corruzione, conoscere la propria essenza, ed arrivare a conoscere anche la giustizia e la santità di Dio e hanno un cuore timorato. Questo è l'unico modo per eliminare la corruzione e vivere una vera sembianza umana. Pertanto, solo grazie a Dio che si incarna ed esprime la verità per compiere l'opera di giudizio, si ottengono dei frutti. Alcuni potrebbero chiedere perché Dio deve compiere quest'opera nella carne, perché non può farlo in forma di spirito. Guardiamo il video di alcune parole di Dio affinché tutti comprendano a fondo. Dio Onnipotente dice La salvezza dell'uomo da parte di Dio non si compie tramite il metodo dello spirito e l'identità dello spirito, perché il Suo spirito non può essere né toccato né visto dall'uomo e non può essere da Lui avvicinato. Se Egli cercasse di salvare l'uomo direttamente alla maniera dello spirito, l'uomo non sarebbe in grado di ricevere la sua salvezza. Se Dio non indossasse la forma esteriore di un uomo del creato, per l'uomo sarebbe impossibile ricevere questa salvezza. L'uomo, infatti, non può in alcun modo avvicinarsi a Lui. Proprio come nessuno poteva avvicinarsi alla nube di Yahweh, solo diventando un essere del creato, ossia solo mettendo la sua parola nel corpo di carne che Egli sta per divenire, Egli può personalmente operare la parola in tutti coloro che lo seguono. Solo allora l'uomo può vedere e sentire personalmente la sua parola, nonché entrare in possesso della sua parola e in tal modo essere pienamente salvato. Se Dio non si facesse carne, nessun uomo in carne e ossa potrebbe ricevere questa grande salvezza e neppure uno verrebbe salvato. Se lo Spirito di Dio operasse direttamente tra gli uomini, tutta l'umanità verrebbe stroncata o altrimenti, senza poter in alcun modo entrare in contatto con Dio, sarebbe tutta presa prigioniera e portata via da Satana. Nessuno è più adatto e qualificato di Dio nella carne per l'opera di giudicare la corruzione della carne umana. Se il giudizio fosse stato effettuato direttamente dallo Spirito di Dio, non sarebbe onnicomprensivo. Inoltre, tale opera sarebbe difficile da accettare per l'uomo perché lo Spirito non è in grado di trovarsi faccia a faccia con l'uomo e, per questo, gli effetti non sarebbero immediati. Tantomeno l'uomo sarebbe in grado di contemplare l'inoffensibile indole di Dio in modo più chiaro. Satana può essere completamente sconfitto solo se il Dio nella carne giudica la corruzione del genere umano. Essendo come l'uomo in possesso di umanità normale, Dio nella carne può giudicare direttamente l'ingiustizia dell'uomo. Questo è il segno della Sua santità innata e della Sua straordinarietà. Solo Dio è qualificato e nella posizione di giudicare l'uomo perché è in possesso della verità e della giustizia e quindi è in grado di giudicare l'uomo. Coloro che sono senza verità e giustizia non sono adatti a giudicare gli altri. Se quest'opera fosse compiuta dallo Spirito di Dio non significherebbe una vittoria su Satana. Lo Spirito è intrinsecamente più elevato degli esseri mortali e lo Spirito di Dio è intrinsecamente santo e trionfante sulla carne. Se lo Spirito avesse compiuto quest'opera direttamente non sarebbe in grado di giudicare tutta la disobbedienza dell'uomo e non potrebbe rivelare tutte le sue iniquità. Poiché l'opera di giudizio viene effettuata anche attraverso le concezioni dell'uomo riguardo a Dio ed Egli non ha mai avuto alcuna concezione sullo Spirito Lo Spirito non è in grado di rivelare meglio l'ingiustizia degli uomini né tantomeno di svelare completamente tale ingiustizia. Il Dio incarnato è il nemico di tutti coloro che non lo conoscono. Attraverso il giudizio delle concezioni e dell'opposizione dell'uomo nei Suoi confronti Egli rivela tutta la disobbedienza del genere umano. Gli effetti della Sua opera nella carne sono più evidenti di quelli dell'opera dello Spirito e così il giudizio di tutta l'umanità non viene effettuato direttamente dallo Spirito ma è opera di Dio incarnato. Dio nella carne può essere visto e toccato dall'uomo ed Egli può conquistare completamente l'uomo. Nel Suo rapporto con Dio nella carne l'uomo progredisce dall'opposizione all'obbedienza dalla persecuzione all'accettazione dalla concezione alla conoscenza e dal rifiuto all'amore. Questi sono gli effetti dell'opera del Dio incarnato. Ora tutti capiamo meglio perché Dio esegue personalmente l'opera di giudizio nella carne. La Sua incarnazione è l'unico modo per interagire concretamente con le persone, parlarci e condividere la verità dovunque, smascherarci e giudicarci in base alla nostra corruzione, irrigarci e nutrirci secondo i nostri bisogni. È l'unico modo in cui può comunicare la volontà di Dio. Sentir parlare della via di Dio e comprendere la verità che Egli esprime non è forse il modo migliore per farci acquisire verità e salvezza? Inoltre, dal momento che Dio si incarna in una persona ordinaria, le persone potrebbero nutrire delle nozioni e ribellarsi? Certamente. Quando vedono l'aspetto ordinario di Cristo, emergono le loro nozioni, la ribellione e la resistenza. E anche se non dicono nulla, per quanto bene fingano, Dio li osserva. E nulla può essergli nascosto. Dio mette a nudo ciò che si cela nelle persone, colpendo dritto al punto. Quindi, solo Dio incarnato espone le persone, rivelandone ribellione e resistenza. Questo è utile all'opera di giudizio. E se Dio pronunciasse parole attraverso lo Spirito? Le persone non potrebbero vedere o avvicinarsi al Suo Spirito. E se il Suo Spirito parlasse, le terrorizzerebbe. Come potrebbero esporre il loro cuore a Dio o comprendere la verità? E chi nutrirebbe nozioni di fronte allo Spirito? Chi oserebbe manifestare corruzione o ribellarsi o opporsi? Nessuno. Tutti tremerebbero di paura, impallidendo e prostrandosi. Persone così spaventate come potrebbero rivelarsi. Nessuna delle loro nozioni si mostrerebbe. Quindi in che modo il giudizio si compirebbe? Come si paleserebbero? Per questo, l'opera dello Spirito di Dio non potrebbe smascherare i comportamenti più genuini delle persone e l'opera di giudizio di Dio non sarebbe fattibile. Per quest'opera, l'incarnazione di Dio è più efficace del Suo Spirito. Possiamo vedere Dio Onnipotente tra noi, insieme a noi dalla mattina alla sera. Egli può esprimere verità per smascherarci sempre e dovunque, portando alla luce le nostre corruzioni e fantasie su Dio, nonché la nostra natura di ribellione e tradimento verso di Lui. Leggendo le parole di Dio, è come se Gli ci giudicasse faccia a faccia. È così commovente e imbarazzante. E vediamo la verità della nostra corruzione nelle Sue parole. Ci odiamo e ci rammarichiamo di noi stessi, e ci sentiamo indigni di vivere davanti a Dio. Attraverso il giudizio di Dio, vediamo anche che Egli è davvero giusto e santo, e che scruta nei nostri cuori e nelle nostre menti. Le idee e i pensieri corrotti, sepolti nei nostri cuori, di alcuni e di essi non siamo neppure consapevoli, vengono esposti e giudicati da Dio, a volte attraverso una dura condanna e maledizione, che ci permette di vedere l'indole inoffendibile di Dio. Così finalmente arriviamo a temere Dio. Senza subire il giudizio di Dio, nessuno di noi conoscerebbe la Sua giustizia e santità, né vedrebbe che coloro che vivono secondo una natura satanica si oppongono a Dio e meritano la dannazione e il castigo. È grazie al giudizio, al castigo e alle prove di Dio che possiamo veramente pentirci, liberarci dalla corruzione ed essere purificati e trasformati. E seguendo Cristo fino ad oggi, possiamo vedere che Dio incarnato vive tra noi umile e nascosto ed esprime con abnegazione e pazienza molte verità, solo per salvare pienamente noi uomini corrotti. Se Dio non venisse personalmente a giudicarci e a purificarci, impartendoci tutte le verità, persone ribelli e corrotte come noi sarebbero eliminate e punite. Allora come potremmo essere salvati? L'amore di Dio per l'umanità è così grande e Dio è così amorevole. Dio Onnipotente esprime verità in mezzo a noi, guidando, nutriendo e accompagnando l'umanità concretamente. Questa è la nostra unica possibilità di sentire la voce di Dio, sottoporci al giudizio e alla Sua purificazione, imparare e acquisire molte verità e vivere una vera sembianza umana. Chi guadagna di più dall'opera di Dio incarnato è questo nostro gruppo di seguaci di Cristo. Quanto guadagniamo da Dio è davvero inestimabile, proprio come dice Dio Onnipotente. La cosa migliore della Sua opera nella carne è che Egli può lasciare parole ed esortazioni accurate e la Sua specifica volontà per l'umanità a coloro che Lo seguono, in modo che poi i Suoi seguaci possano trasmettere più accuratamente e più concretamente tutta la Sua opera nella carne e la Sua volontà per l'intera umanità a coloro che accettano questa via. Solo l'opera di Dio nella carne tra gli uomini compie veramente il fatto che Dio sia insieme all'uomo e viva con Lui. Solo questa opera soddisfa il desiderio dell'uomo di contemplare il volto di Dio, testimoniare la Sua opera e ascoltare la Sua parola personale. Il Dio incarnato pone fine all'età in cui erano mostrate all'umanità solo le spalle di Yahweh e conclude anche l'età della fede dell'umanità in un Dio vago. In particolare, l'opera dell'ultimo Dio incarnato porta tutta l'umanità in un'età che è più realistica, più pratica e più bella. Egli non solo conclude l'età della legge e della dottrina, ma cosa ancora più importante, Egli rivela all'umanità un Dio che è reale e normale, che è giusto e santo, che sblocca l'opera del piano di gestione e dimostra i misteri e la destinazione del genere umano che ha creato l'uomo e porta a termine l'opera di gestione e che è rimasto nascosto per migliaia di anni. Egli porta l'età della vaghezza ad una fine completa, conclude l'epoca in cui l'intera umanità desiderava cercare il volto di Dio, ma non era in grado di farlo. Egli pone fine all'epoca in cui l'intera umanità serviva a Satana e conduce tutta l'umanità lungo l'intero percorso all'interno di una nuova era. Tutto questo è il risultato dell'opera di Dio nella carne, anziché dello Spirito di Dio. Dio compie la Sua opera di giudizio degli ultimi giorni da trent'anni ormai. L'indole corrotta dei prescelti di Dio è stata purificata attraverso il Suo giudizio e Dio ha creato un gruppo di vincitori prima dei disastri. Essi sono le primizie. Hanno persistito nel seguire e testimoniare Cristo anche nella feroce oppressione del gran dragone rosso. Hanno sconfitto Satana e sono stati testimoni di Dio. Come nella profezia dell'Apocalisse, sono quelli che vengono dalla grande tribolazione. Hanno lavato e sbiancato le vesti nel sangue dell'agnello. Ora, mentre Dio incarnato esprimeva verità, i leader e gli anticristi di ogni confessione sono stati del tutto smascherati. Essi vedono che Dio Onnipotente appare come una persona, non è lo Spirito, e così Gli si oppongono e Lo condannano. Per difendere il loro prestigio, fanno di tutto per impedire ai credenti di approfondire la vera via. I volti di questi individui che odiano la verità sono stati esposti e loro condannati ed eliminati. Senza l'incarnazione di Dio, sarebbero rimasti nascosti a socchiare il sangue ai credenti e a divorare le offerte, ingannando e rovinando moltissime persone. Poiché Dio compie il Suo giudizio nella carne, gli anticristi e i miscredenti, chi ama o non ama la verità, chi detesta o disprezza la verità, sono stati messi a nudo. E coloro che amano e comprendono la verità hanno visto il volto spregevole di Satana e il modo in cui Satana si oppone a Dio e inganna l'umanità. Hanno rifiutato e abbandonato Satana e si sono rivolti a Dio. Dio alla fine ricompensa il bene e annienta nei grandi disastri tutte le forze del male, concludendo questa era del potere di Satana e conducendo chi è stato purificato dal Suo giudizio ad una meravigliosa destinazione. Come si legge nell'Apocalisse, chi è ingiusto, continua ad esserlo, chi è impuro, continua ad essere impuro, chi è giusto, continua ad esserlo, e chi è santo, si santifichi ancora. Ecco, io vengo presto e avrò la mia ricompensa da dare a ciascuno secondo le Sue opere. Concludiamo con altre parole di Dio Onnipotente. Molti hanno un sentimento negativo riguardo alla seconda incarnazione di Dio poiché l'uomo trova difficoltoso credere che per compiere l'opera di giudizio Dio debba diventare carne. Ma devo dirti che spesso l'opera di Dio supera ampiamente le aspettative dell'uomo ed è difficile da accettare per le menti umane, perché gli uomini sono soltanto vermi sulla terra, mentre Dio è l'essere supremo che riempie l'universo. La mente dell'uomo è simile a un pozzo di acqua putrida che genera soltanto vermi, mentre ogni fase dell'opera diretta dai pensieri di Dio è un concentrato della Sua sapienza. L'uomo desidera costantemente competere con Dio, allora io dico che alla fine è scontato chi ci rimetterà. Vi esorto tutti a non considerarvi più importanti del loro. Se altri possono accettare il giudizio di Dio, allora perché tu non puoi? Quanto in alto ti trovi rispetto agli altri? Se altri possono chinare le loro teste di fronte alla verità, perché anche tu non puoi fare lo stesso? L'opera di Dio è inarrestabile. Egli non ripeterà l'opera di giudizio semplicemente per via del contributo che hai apportato, e tu sarai sopraffatto dal rimpianto per esserti lasciato sfuggire una così buona occasione. Se non credi alle mie parole, allora aspetta soltanto che quel grande trono bianco nel cielo esprima un giudizio su di te. Devi sapere che tutti gli israeliti disprezzarono e rinnegarono Gesù, eppure la realtà della ridenzione del genere umano per opera di Gesù si è lo stesso diffusa a tutto l'universo e fino ai confini della terra. Non è questo un fatto che Dio ha compiuto molto tempo fa? Se stai ancora aspettando che Gesù ti porti in cielo, allora dico che sei un cocciuto ramo secco. Gesù non riconoscerà un falso credente come te, che è sleale verso la verità e ricerca soltanto benedizioni. Al contrario, Egli non mostrerà misericordia, gettandoti nello stagno di fuoco dove brucerai per decine di migliaia di anni. E con questo per oggi è tutto. Se avete domande, lasciateci pure un commento qui sotto. Arrivederci e alla prossima! Grazie a tutti! Grazie a tutti.